Dorian Gray? Il film? Oui, bien sûr. Si il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde rimane un romanzo affascinante a distanza di 125 anni, il film del 2009 di Oliver Parker lascia qualche piccolo dubbio alla contesse. Cattivo è cattivo, bien sûr, pieno di sangue e con il sospetto di un'infanzia tormentata per il protagonista, che però non viene mai del tutto sviscerata. Con un'intenzione ben precisa, Oliver Parker ha pensato una trasposizione più gotica, cosa che forse non fa del tutto onore a Wilde, che invece gioca oui sull'imperfezione cronica della società vittoriana, ma anche sul libero esercizio di annoiato cinismo che tanto ci ha fatto innamorare dello scrittore aforista, sempre modernissimo, direi, e che ci ha fatto innamorare del bastardissimo Lord Henry Watton, che è il mio grande maestro e ispiratore nella vita. Watton, Colin Firth, porta il bello e giovane Dorian Ben Barnes sulla cattiva strada e lo fa con una diplomazia degna del più grande incantatore. Ne fanno le spese l'ingenua attrice Sibyl Vein, interpretata da Rachel Hartwood, e il pittore che dà vita all'anti Dorian, Basil Hallward, Ben Chaplin. Ma in questo il film trae un logico spunto dal romanzo. Piccole differenze ci sono, ma il cinema ha pure altre regole. La contessa vi dice oui, pur preferendo il romanzo. Bonne nuit, mes chouchous.